E parliamo ancora di Gaia, del nostro pianeta. L'idea di Gaia è quella di James Levalock, ne ho parlato spesso sul mio canale e vi invito ad andare a vedere i link che vi indico nella descrizione del video. Se la vita sul nostro pianeta è un grande sistema che si autoregola per trovare il proprio equilibrio, c'è da aspettarsi che una specie fastidiosa e disturbatrice, chiamiamola proprio così, come la nostra, prima o poi venga eliminata. L'idea viene suggerita da James Dick e Yain Wewe, ricercatori dell'Università di Southampton e pubblicata su Plus Computational Biology. Questi studi riprendono, come vi dicevo, l'idea di Gaia proposta nel 1979 dallo scienziato inglese, James Levalock, per dare vita a un sofisticato modello computerizzato. Adesso vi illustro brevemente di che cosa si tratta. Levalock propose l'ipotesi che il nostro pianeta esistesse in un equilibrio tra le sue condizioni geofisiche e le azioni dei suoi organismi viventi. Insomma, una sorta di organismo vivente grande che si autoregolava. Questo pensiero è stato a volte interpretato in maniera sbagliata, con l'attribuzione alla Terra di una personalità, di un'intelligenza. In realtà l'idea di Lovelock era molto diversa, si partiva dall'esistenza di meccanismi di autoregolazione per ipotizzare la loro presenza su scala planetaria di un sistema ad altissima complessità come la biosfera. Rispetto all'ipotesi di Gaia, la nuova ricerca riprende il fatto che la vita da sempre evolve assieme al pianeta. Un esempio immediato è fornito dalla composizione dell'atmosfera. Senza l'attività della fotosintesi delle piante che rilasciarono nell'atmosfera 3 miliardi di anni fa l'ossigeno, quelli di oggi non potrebbero vivere. Ebbene, i ricercatori di Southampton ritengono che la vita regoli se stessa procedendo con oscillazioni che progressivamente diminuiscono fino a cessare del tutto. Questa ipotesi prende in analisi due problemi molto grossi. Il primo è che il sistema funziona tanto meglio quanto più è complesso, ovvero quanto più sono le specie biologiche che ospita e il numero delle relazioni che si instaurano tra di esse. E dall'invenzione dell'agricoltura ad oggi, gli esseri umani sono riusciti ad annientare il 45% di tutte le forme viventi. Un'estinzione di massa, la possiamo definire così, che ha impoverito enormemente il nostro pianeta, il sistema Gaia. Un altro problema riguarda il clima. La storia evolutiva ci insegna che il sistema resiste a perturbazioni anche per lunghi periodi, ma che esistono momenti drammatici in cui si supera una soia dopo la quale è necessaria una riorganizzazione complessiva. Cioè Gaia deve ritrovare nuovi equilibri e questi nuovi equilibri non è detto che siano favorevoli alla vita dell'uomo. Ciò che molti scienziati temono è la cosiddetta tempesta perfetta, un modello che noi umani stiamo seguendo, mettendo assieme i peggiori parametri di impatto sul pianeta, il collasso della biodiversità e la forzatura climatica. Tutto ciò ci spinge verso quella soia al di là della quale la vita troverà sicuramente un nuovo modo di adattarsi, ma non è detto che questo nuovo modo preveda anche la nostra sopravvivenza. La conclusione di questi studi non è ottimistica. Se allarghiamo lo sguardo possiamo vedere che la Terra è stata molto più fredda oppure molto più calda di come è oggi e non sempre adatta alla vita umana. Oggi niente ci assicura che la Terra del futuro, spinta dalle nostre azioni a superare quella soia dell'attuale condizione di equilibrio, si riveli un posto adatto all'Homo Sapiens. Questi concetti li ho espressi molto spesso qui sul mio canale. e li ho sottolineati diverse volte. È opportuno riflettere su questi studi che confermano che l'ipotesi di Gaia è molto più che una semplice ipotesi. La nostra Terra è un organismo vivente. Non diamogli una personalità, non diamogli un'intelligenza, ma cerchiamo di capire quali sono gli equilibri che regolano le relazioni fra le varie parti. Vi ringrazio e vi rimando alla prossima. Grazie. 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 Grazie.